La manifestazione nazionale dell'agricoltura, ci sono ovviamente alcune sigle insomma delle associazioni di categoria, quanti ne arriveranno da Arezzo? Da Arezzo noi abbiamo intenzione di fare un pullman da 50 persone e la delegazione della Confederazione sarà fatta dalla Toscana a solo 200 persone. La manifestazione è a Bologna il 5 maggio, cioè domani, e vedrà tutto il nord Italia a Bologna, compresa la Toscana, il centro Italia si porterà invece su Roma e a Catanzaro per tutto il meridione. Quindi è una grossa manifestazione fatta da Confederazione Italiana di Agricoltura, Confagricoltura e Copagri, unite su questa manifestazione per i prezzi in agricoltura che mantengono sempre livelli bassissimi. Per alcuni prodotti si pagano ancora prezzi degli anni 80, mentre i prezzi al consumo sono, e tutti i consumatori lo possono vedere, aumentati tantissimo. Si dice che il nostro paese dovrebbe tornare a reinvestire nell'agricoltura, però come si fa? In effetti l'agricoltura dovrebbe essere il settore primario di nome di fatto, quindi potrebbe essere un volano importante per rilanciare l'economia del nostro paese. In queste condizioni è davvero molto difficile. Facciamo l'esempio dell'olio che ormai è diventato veramente un simbolo di quella che è la crisi e le difficoltà che l'agricoltura deve sopportare. Noi facciamo fatica a produrre un litro d'olio vendendolo intorno ai 12 euro. Nel supermercato si trova 3 euro. Quello che il consumatore non sa è che l'olio di 3 euro ha delle caratteristiche organolettiche ma anche nutrizionali completamente diverse. È importante informare i consumatori, è importante dargli tutte quelle che sono le notizie per poter scegliere. È importante anche che però per fare tutto questo la pubblica amministrazione e la politica sia a fianco delle aziende agricole.